e ti saluto con la pace del signore e ti auguro una buona giornata e un buon fine settimana oggi sabato 26 novembre 2022 iddio sia lodato alleluia dio è buono e la sua bontà dura in eterno e come disse il salmista loderò l'eterno in ogni tempo la lode sua sulle mie labbra avrò l'alma mia si glorierà in dio ogni umile alludire gioirà e poi il coro è un invito per tutti magnificate iddio con me il nome suo esaltiamo insieme ho cercato iddio e mi ha risposto liberandomi da tutti i miei timor alleluia che bello lodare dio con tutto il cuore alleluia vogliamo però ora ascoltare la parola del signore che questa mattina ci viene rivolta ai nostri cuori in questi termini abramo davanti alla promessa di dio non vacillò per incredulità ma fu fortificato nella fede e diede gloria a dio pienamente convinto che quanto egli ha promesso è in grado e anche in grado di compierlo lettera ai romani capitolo 4 i versetti che vanno dal 20 al 21 ed ancora fedele è colui che ha fatto le promesse libro epistola agli ebrei capitolo 10 il versetto 23 il titolo di questa meditazione biblica sono e questo le promesse di dio per chi cerca la pace interiore chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa perché è oppresso da preoccupazione non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a dio in preghiere e suppliche accompagnate dal ringraziamento e la pace di dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in cristo gesù per chi è malato for sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli chiamano dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno per chi cerca la sua via tramite la preghiera io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale deve camminare io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te dice il signore per chi si sente in pericolo il signore ti proteggerà quando esci e quando entri ora e sempre per chi sente il peso delle proprie colpe se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità per chi ha di fronte la morte ecco le parole di gesù io sono la risurrezione la vita chi crede in me anche se muore gloria a dio questi sono dei versetti che ci incoraggiano questa è parola di dio queste sono promesse di dio fatte per ogni essere umano sai qual è la differenza tra colui che li vive e colui che non li vive beh è semplice colui che li vive colui che crede colui che aspetta la risposta di queste promesse vive in pace vive benedetto perché quando noi ci affidiamo alle promesse di dio non possiamo far altro che ricevere la benedizione di dio perché ci fidiamo di ciò che lui dice coloro invece che non vivono secondo queste promesse vivono nell'oblio nelle tenebre non sanno quali sono le risposte non sanno a dove aggrapparsi non sanno non sanno niente vivono la loro vita così nel buio dice ma quando morirai tu sai dove andrai ma io non ho fatto niente di male penso che andrò con il signore penso qua non si tratta di pensare qua si tratta di credere dio ha fatto delle promesse ora la domanda è questa ma tu ci credi alle promesse di dio vivi in funzione delle promesse di dio oppure vabbè dice sì speriamo io spero per te che non sia questo il tuo atteggiamento ma che tu possa credere che egli è e che egli è colui che ricompensa coloro che credono alle sue promesse amen in questi giorni mi è pervenuto a un'altra richiesta di preghiera per una ragazza si chiama emmanuela emmanuela mognon e si trova in veneto e ha chiesto preghiera è una conosce bene mia moglie ha chiesto preghiera noi non vogliamo io non gli ho chiesto perché cosa dio lo sa dio conosce il suo bisogno dio conosce i loro bisogni quindi vogliamo presentarla davanti al trono della grazia quindi ti chiedo di chiudere gli occhi e pregheremo il padre come ci ha insegnato gesù pregheremo il padre nel nome di gesù e lo faremo per mezzo dello spirito santo perché è lui che viene in aiuto nella nella preghiera perché noi non sappiamo come pregare ma egli intercede per noi con sospiri ineffabile quindi vogliamo intercedere per emmanuela e chiediamo a dio la sua benedizione amè gloria a dio signore ti vogliamo ringraziare per questo messaggio che ci ha rivolto questa mattina perché ascoltare le tue promesse mi rallegra il cuore io credo che ci rallegra il cuore perché le tue promesse per noi sono un'ancora sono qualcosa di meraviglioso sono qualcosa sulla quale noi ci appoggiamo e ci siamo aggrappati con tutte le nostre forze perché sappiamo che le tue promesse sono sì ed amen le tue promesse sono verità quindi noi crediamo e crediamo anche all'adempimento delle tue promesse quindi grazie con tutto il cuore ma vogliamo pregarti questa mattina per questa ragazza si chiama emmanuela signore tu la conosci conosci i suoi bisogni conosci la sua vita conosci tutto di lei noi la vogliamo presentare così come ci è stato chiesto davanti al trono della tua grazia e ti vogliamo chiedere padre nostro dio del cielo e della terra signore tu che conosci ogni cosa signore intervieni nel bisogno di emmanuela nel nome di Gesù che tu possa benedire la sua vita e che tu possa venire incontro alle sue necessità che tu possa esaudire i desideri del suo cuore la preghiera del suo cuore noi non la sappiamo ma tu la conosci perfettamente signore prenditi cura di lei ancora signore aiuta la porta l'avanti signore proteggila da ogni male e fa che la sua vita possa risplendere della tua luce padre santo ancora per ognuno di noi che siamo qui signore ti voglio pregare e chiederti la tua benedizione su ognuno padre che tu possa benedirci che tu anche in quest'oggi possa guidarci possa tu accompagnarci possa tu evitarci il male signore ti prego preservami e preserva ogni mio fratello ogni mia sorella ogni amico e ogni amica che guardando questo video preservaci dal male te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù amen amen il dio ti benedica buona giornata e ci vediamo domani al solito appuntamento che la pace di cristo ti accompagna anche oggi a domani